Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay di Dark Souls 3 Bravissima, hai imparato Quindi oggi Igris vi spiegherà un po' cosa dovremmo fare Dovremmo combattere nudi contro armature che sono spesse tre volte noi Esatto Che già siamo secchi come una merda Oh mio dio, guarda, mi sembra il tipo cos'è? Mi sembra il tipo di Ig, la, il tipo di sì, è vero, come si chiama? Il colo di... Il Galilei, no? Il Leonardo da Vinci, no? Eh, l'uomo vitroviano di Leonardo da Vinci Eh, quelli di l'uomo vitroviano, no? Eccolo qua! Vai, vai! Ciao! Infatti, vai, mi sa che... Ciao! Lo dà il sole Oh mio dio, guardalo, guardalo, quanto fa... È amico mio! È amico... All'armatura... Si è doppato? Ah no, pensavo, pensavo se ne andasse E come... Ah, ah, no! Abbi pietà di un fratello No, no, no! Due, tre, qua... Guarda che lui sta sulla difensiva come se si aspettasse qualcosa Sì, ma io sono... Eh, voleva, voleva, gli ho tirato... Cos'è? Ah, onda di forza, è vero? È inutile, vedo E mori in due colpi... Con la colazza e mori in due colpi senza colazza Sì, ma tipo un pedofilo Che c... Uno, vedi uno nudo che corre... Che corre dietro un altro Eh, no, ha bevuto Estus Sì, no, l'Estus che rigenera la... 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 la mana Qua dovrebbe avermi preso, ma dato che... Vabbè... Dato che il PvP è un mondo a noi sconosciuto Qua non è... non è facile Vabbè dai, qua, qua, qua... Qua te l'ho conceduto Che schifo, che schifo... E mi ha anche applaudito, perché gli ho fatto danni Che vita da schifo Ora cercheremo di uccidere una rotolata E lo farà Mr. L, ragazzi Preparate... Popcorna, veloce Grazie a Dio, grazie Siccome i Chris ci hanno herdato parecchio Sono, come dire... L'omino... Fa... È un coniglio, ragazzi Guardate qua come scambetta in giro Trovi anche uno spirito oscuro A forma di Kirk Che ti invade su... A forma di Kirk Sì, perché non so che... Tipo i biscotti Noi siamo Kirk Eccolo qua Ok, io ho paura che lui mi attacchi subito Eh, avrebbe le facoltà Ok, aspetta un attimo Eh, si è messo È diventato... È cresciato Vagli addosso Non funziona No, è che... No Rotolali addosso Vieni qua Vieni qui Io avrò la mia vendetta Sì, devo fare i danni Un po' un cazzo E vabbè, devi, devi tipo... Devi sopprimerlo A forza di... No, è diventato... No, no, niente Ok Oh, nulla Sta scappando come un coniglio Dovremmo essere noi i conigli Per me stiamo un po' raggando Ci due No Non... Ma... Ma dai No Vabbè, vabbè Troviamo uno da uccidere Ok Ok, stavo andando bene A parte la stronzata finale Che devo metterlo Mi vergogno un po' Per ciò che ho fatto Fuori Me ne vado ragazzi Che brutte persone che siamo Uccidere un tipo Prendendolo a scudate Sì, è vestiti in maniera improponibile Guarda, guarda come cambia Aspetta, vedi che adesso qua è luce Sì Guarda, guarda, guarda davanti E... Oscuro Per l'amor del cielo Oh mio Dio Molti colori ragazzi Siamo una pianta Ok, va bene Ecco un po' di nascondino questo gameplay Vediamo che succede Ok, vediamo se ci trova, ci trova, ci trova Non ci trova Eccolo lì Sì, sono qua Ti eri spaventato Non ci vediamo Sono qua, sì, sì Vieni qui Ancora, è lo stesso È lo stesso di fai Fai il saluto per stirare Cos'è il primo saluto che fa? Stira Un'esultanza Sì, sembra lo stesso Guarda, però ti pesto Io non dimentico Non gli faccio un cazzo Gli fai più danni a pugni Scappa, scappa Aspetta Io lo scudo Fussero Ma che cazzo Allora, io ho rotto E a me mi sembra di vedere che lui ti colp... È stato veloce però Ha avuto pietà, ci uccisi in fretta Ciao Ci rivediamo al prossimo gameplay Ma che schifo facciamo Uccidere qualcuno vestito in maniera improponibile, ragazzi Ho preso uno screenshot Voglio che i clizzi me ne vede su WhatsApp Perché veramente Siamo qualcosa Che non merita di esistere Cioè, quando arriva Echiti tu vicino a me quelle cuffie Quando arriva lo spirito scuro Se ne va subito No, facciamo cambiare opposte Da mia me le cuffie No Wow, è già qui Ma che cavolo Avvicinati, avvicinati Allora, scusami, scusami Per un attimo Spaventalo, spaventalo Intimoriscilo non deve mi dispiace non mi dispiace. ora che ci ha visto, ora che ci ha visto non deve, non deve sopravvivere se no lo dirà a tutti ma non lo sbaglio oppure gli stavo dando la parte frontale non lo so, quando lagga le leggi, tutte le leggi del mondo possono annullarsi ah non mi hai aiuto, eh volevo ci ha mancato per spiega ma veramente muori eri muori tantissimi, voleva farti il backstab che, vabbè, lui è vestito ancora decente ma noi siamo una roba se si guarda ancora per 5 minuti, impazzisce no, no, mi arrendono non mi avrei mai vivo buttati giù piuttosto ah c'è anche sparato una bomba al tipo fa falcura no, anche una malestra che sporchissimo vedi qua dai, vedi qua io non mi muovo e tu? no, io stavo schivando eh vabbè che ne so io, la logica beh dai, non è che li stai facendo qua per un cazzo di sì ok, stai facendo un cazzo di danni, ma va bene no, 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 cosa? ragazzi, ci riprovo con uno spadone decente perché sto qua faceva troppo schifo ci ha perculati siamo tornati con una spadone decente ragazzi la claymore aspettiamo, abbiamo evocato una donna proprio, siamo vestiti bene per per un appuntamento sì, infatti oh mio dio, ma lei è troppo piccolo rispetto al nostro cranio perché tipo, sei schiacciato e partito verso l'alto che poi arrotoliamo come guardate, guardate che succede se mi metto seduto non vuoi il buddha ma non il buddha è più piacevole oh mio dio è un uovo impossibile evocare lo spirito e se hai rifiutato, ci ha visti, si hai rifiutato ok, è nata la donna che sembra abbastanza scarsa beh, vedi che ha tipo oh, si rifiutano ci passiamo chiare si rifiutano si vedono, si vedono quest'altro allora, Aragon eh, tutti che si rifiutano no, ancora quello là del sole che non mi... va beh, del sole sì, è una roba inquietante dun da dun da dun da dun da dun ahahahah ma poi è vuoto dentro l'alto è vero, guardate è vuoto dentro l'alto è vuoto dentro l'alto allora, o un sacchetto della spazzatura che ci copre oppure siamo vuoti ah no, si, si è proprio vuoti l'aspetto qua per me non mi vede mi scambia per tipo per una palla per un sasso c'è la fede sembra un cannone quasi è un cannone ci ha visti? ah, ok ma si si rifiuta di combattere basta, mi rifiuto sei il decimo sei il secondo che ci vede tu non potrai sopravvivere oh mio dio bella, è pure inviata alla bruttezza di questo personaggio ma sta raggando come lo schifo ma stiamo tutto il tutto dark su slagga non solo siamo noi ha un raggio di merda questa spada l'ho schivata a caso io mi assalto e salvato io mi assalto come pensi che si venga in bwp? schivando, schivando in modo calcolato ma che cazzo dici devi schivare a caso oh mio dio sto vincendo non usare l'estus non usare l'estus non io vengo a casa tua ovunque tu sia anche se sta giocando in nigeria non mi interessa io vado lì però lo stai martellando lo stai andando benino martellando di botte occhio che fa allora come spettacolo era bello però non è servito un cazzo si orca troia vieni qua ci siamo no, scriva no, non non finirà mai il tuo diritto alla vita è scaduto donna muori porca troia ma donna muori la finita, la finita ci sta cagando in mano vedi, vedi che non siamo noi siamo il cavaliere stupor torre il cavaliere stupor ci stiamo in lontani c'è il cavaliere azzurro il cavaliere nero il cavaliere stupor noi siamo il terzo dai dai devi morire si finisci termina il suo diritto alla vita non aveva finito l'estus vabbè dai ne avrà una se no beh allora o ne ha poche perchè magari sta risparmiando dai che manca l'ultimo colpo si cavaliere stupor vince cavaliere stupor cavaliere stupor vai così voglio provarlo io adesso siamo dei picconieri che bello uccidere gente vestita in maniera improponibili e con un piccone altra sfida da fare basta mi sono stancato non è minecraft non puoi riuscirci aspetta che recupero la stagna ho il clipper dietro di te oh e fate che mi ricorda vagamente il piccone di minecraft perchè sembra piccolo rispetto al corpo che si si compenetra nell'elmo eh si guarda quelle mutande che li canano da sotto la gonda così sembra poi lo sbatte per terra è crudelissimo pariamo col piccone sembra una croce il signore ti domina aspetta ho la processione ho la processione da fare guarda te che si è fermato ho una processione da fare ciao sta cercando di capire cosa è successo ah scusa si scusa avevo una processione da fare ciao ciao aspetta sono stanco che ho lavorato tutto il giorno ok rispondi con un preso di sun aspetta no ecco adesso sono amichevole ok ok vai è che adesso è una provocazione questa guarda che bello prendo piccone amato persone come lo chiamo il tuo cavaliere il lavoratore disonesto ahahahah il eliminatore disonesto dai io l'ho backstabato col piccone quanta quanta vergogna in sé per questo io io li lancerò un pugnale cazzo li lancerò un altro pugnale ok questo lo 18 di danni niente 18 di danni con questo qua col backstab è come tiragli un ceffone sulla colazza è come è come colpire una macchina con uno stuzzicadenti stessa cosa io di bigone ero io devo lavorare per vivere quindi io du roja io bigono cazzo si guarda se mi spara si ma se mi spara il sola raggio che è guarda che se mi inco così vado a scuola di mutande guarda che io sto avverti io sto avverti oh oh che cura che ha finito dalla magia è andato è andato a vuoto era quasi tatterare la scena guarda che scappa oh mio dio nooo guarda uno deve scappare in seguito dal cavaliere stupro che è il cavaliere ciccione che ho nominato prima io a cavaliere stupro oh l'ho preso questa è la gara no dove sta andando dai bot io non vengo lì lo sai no 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 mi dispiace ciao ciao guarda correre che possiamo si accorgere ciao eh si è bevuto l'exus il pezzo di merda io aspetto qui comunque eh cos'è prendi l'arco no dai ecco qua ciao guarda io aspetto eh sono paziente è tornato nel suo mondo hai vinto bravo vai così che perché ma perché dai dai no 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 è come se avessi vinto quindi mi vedete da scuola in mutande il lavoratore disonesto ha vinto quindi no dai basta così che siamo se ne facciamo un'altra perdiamo la sanità mentale ciao a tutti ragazzi diteci se vi è piaciuto commentate spolliciate condividete non lasciate disdike commentate al quadrato e fate quello che volete altrimenti piccono altrimenti vi ritrovate dietro il minatore disonesto e cavaliere stupro e mi raccomando non fate mai questo ciao a tutti